Chi vuole fare il furbo ci sguazza, il problema è chi invece fa le cose regolarmente, ha diritto e vive nell'impossibilità di poter avere i propri diritti. Ma il problema è un altro secondo me, chi non paga mai sono i vari medici che certificano quell'invalidità. Ma allora possiamo dire che dobbiamo radiare dall'albo tutti quei medici e magari farli pagare, mettere in grado tutti quei medici che certificano false invalidità? Perché non è che la colpa viene dal cielo, c'è qualcuno che firma, c'è qualcuno che dice sia l'invalidità e ho sentito storie assurde, gente che dopo un anno il medico diceva no è migliorato nell'anno, è miracolo, non esiste. Uno ha una professione così delicata, così importante come quella del medico, se va là e firma una cosa falsa deve risponderne personalmente.